cari amici buongiorno bentornati a caffè biblico questa mattina vorrei parlare di uno degli argomenti più importanti della settimana che è stato il passaggio del testimone che in inglese si dice pass the torch tra il presidente joe biden e la vicepresidente kamala harris e questo ha scatenato tutto un interesse da parte di giornalisti media sul personaggio kamala harris ho letto un articolo proprio recentemente di alessandro troccino sul corriere della sera che parla di questa donna e racconta come è stata eletta come vice scelta diciamo come vicepresidente quattro anni fa perché in quel periodo c'erano le manifestazioni di piazza della gente di colore dopo l'omicidio diciamo il brutale assassinio di george floyd da parte della polizia americana e anche da parte di altri poliziotti che hanno massacrato altri uomini di colore per tenere buona la gente di colore di quel periodo joe biden scelse questa kamala harris che è di colore o perlomeno di padre di colore ma questa donna non è che rappresenti perfettamente le minoranze di colore o latine oppresse anzi è di madre indiana proveniente dall'india ma da una famiglia di bramini dalla casta dei bramini e il padre afro giamaicano è un economista per cui lei è vissuta nel benessere una famiglia benestante fin dall'inizio non so fino a che punto può rappresentare le minoranze di colore scusate ma questa donna potrebbe diventare la prossima presidente degli stati uniti sarebbe la prima donna presidente e se ovviamente superasse donald trump a novembre che differenzia comunque tra questa donna benestante laureata e questo personaggio che nella bibbia è più importante personaggio della bibbia ed è gesù cristo vi leggo quello che scrisse isaia di lui 700 anni prima che nascesse egli è cresciuto davanti a lui come un germoglio come una radice che esce da un arido suolo non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare disprezzato e abbandonato dagli uomini uomo di dolore familiare con la sofferenza pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia era disprezzato e noi non ne facciamo nessuna stima questo è gesù questo è il personaggio che mi rappresenta questo è il personaggio che è venuto nel mondo in una delle famiglie più povere di israele con una missione ben precisa andare su quella croce a pagare il mio debito il tuo debito a espiare i nostri peccati beh questo personaggio straordinario vero dio e vero uomo io l'ho eletto come mio presidente come mio signore e vorrei che anche tu caro amico lo scegliessi lo votassi tra virgolette come tuo signore e la tua vita cambierebbe nettamente dio ti benedica caro amico grazie a tutti grazie a tutti